Bene, siamo con il dottor Giuseppe Lenti che è il vice direttore generale della BCC di San Marzano di San Giuseppe. I soci sono la forza del credito cooperativo perché sono il tessuto connettivo di una banca radicata nel territorio. E la BCC di San Marzano si identifica molto con i propri soci. Ma entriamo nel vero, nel merito. Il vostro motto è differenti per forza. Qui abbiamo delle parole importanti, la differenza e la forza. Dottor Lenti perché? Perché la nostra è una banca che opera su un territorio particolarmente delicato, chiamiamolo così, e gli ultimi avverimenti lo stanno dimostrando da circa 60 anni. E questa lunga permanenza sul territorio dimostra il fatto che c'è una differenza rispetto alle altre banche che pure operano su questo territorio. Questa differenza sta nel fatto che la BCC di San Marzano, oltre a tenere presente tutti gli aspetti comunque tecnici e normative di vigilanza e quant'altro diciamo governano il mondo delle banche, ha un qualcosa in più rispetto agli altri istituti di credito. E cioè quello di porre la massima attenzione nei riguardi delle persone, persone che si identificano con i clienti e soprattutto con i soci della banca, a cui riserviamo il miglior trattamento possibile. Quanti sono i soci della BCC di San Marzano? Attualmente i soci della BCC di San Marzano sono 2300, è un numero considerevole. Queste sono persone che credono in un progetto che la BCC porta avanti, cioè quello di sviluppare il territorio in cui la banca è insediata. Noi abbiamo anche, diciamo al di fuori del nostro territorio, alcuni attestati di stima che ci pervengono ogni giorno, sia da altre BCC che operano in altri ambiti e quindi diciamo ci osservano e ci confortano del fatto che stiamo operando bene. Cosa significa essere soci della BCC? Essere soci della BCC significa credere appunto nel progetto della banca, cioè quello di sviluppare il territorio in cui noi operiamo. La nostra attività viene fatta al 100% sul nostro territorio, quindi noi eroghiamo il credito e raccogliamo il risparmio esclusivamente su questo territorio. E quindi crediamo che con l'aiuto dei nostri soci e dei nostri clienti si possa migliorare questo territorio, seppur difficile, seppur complicato. Quindi un approccio che non legge soltanto il dato numerico e poi un'altra considerazione, i soldi restano qui, perché molto spesso il sistema bancario ha drenato il risparmio per esempio nel Mezzogiorno d'Italia facendo gli investimenti altrove. Assolutamente sì, noi investiamo tutto il risparmio che raccogliamo su questo territorio. Eventuali surplus che ci dovessero essere non li riversiamo in altri territori, ma solitamente li investiamo in titoli di Stato e quindi anche sosteniamo l'economia comunque in generale, ma senza disperdere le forze su altri territori che sono di competenza eventualmente di altre BCC o di altre banche. Riguardo al discorso che faceva lei della quantificazione dei valori, vorrei segnalare a chi ci sta ascoltando una lettura molto interessante che è il nostro bilancio sociale, nel quale documento si può guardare qual è il contributo che la banca dà al nostro territorio, non solo in termini di impieghi, cioè di prestiti fatti alla clientele e alle imprese, ma anche in termini di indotto, cioè di posti di lavoro, di rapporti con i fornitori, di rapporti con tutti coloro che entrano in contatto con la banca. Ma i soci sono anche e possono essere anche e sono clienti e quindi quali sono i vantaggi per un socio? Beh, ci sono diversi vantaggi per quanto riguarda i soci. Noi abbiamo creato dei prodotti ad hoc per dare al socio proprio tangibilmente un surplus rispetto a quello che diamo ai clienti che comunque trattiamo anche loro benissimo, però al socio riserviamo qualcosina in più perché è giusto che contribuendo allo sviluppo della banca abbiano un valore aggiunto. Facciamo degli esempi. Sì, abbiamo per esempio il prestito risolvi tutto soci, che è un prestito agevolato riservato esclusivamente ai soci, oppure abbiamo dal lato della raccolta del risparmio il deposito a risparmio gold, che offre dei rendimenti molto interessanti per i soci, oppure abbiamo una serie di conti correnti, in cui oltre alle condizioni agevolate ci sono anche il rilascio della carta Bancomat e della carta di credito gratuiti. Poi abbiamo una serie di iniziative a vantaggio dei soci che esulano un po' dal rapporto bancario, diciamo. Sono dei premi che periodicamente assegniamo ai soci, per esempio in occasione dell'anniversario di matrimonio, cioè dopo 50 anni di matrimonio la banca dà un premio in denaro al socio, oppure in occasione della laurea di un figlio che si laurea naturalmente con un punteggio brillante, diamo un premio anche a loro. In più riserviamo una serie di agevolazioni sotto forma di sconti presso esercizi convenzionati, che sono a loro volta gestiti da altri soci e quindi mettiamo in contatto i soci compratori con i soci venditori con uno sconto particolare in maniera tale che si crei anche un circuito virtuoso tra tutti i soci della banca. Bene, e allora le cose sono chiare, il dottor Lenti come sempre è stato molto preciso e se dall'altra parte qualcuno volesse diventare socio, che deve fare? Beh, si deve recare presso uno dei nostri sportelli, fare una domanda al direttore o all'operatore di sportello, magari anche farsi una chiacchierata perché è bene che sia lui esplichi le motivazioni per le quali vuole diventare socio, dall'altro il direttore o chi in quel momento lo sostituisce può spiegare al socio che cosa significa diventare soci di una banca di credito cooperativo, perché tenga conto direttore che per diventare soci della banca non c'è bisogno di grandi capitali, un'azione costa poco più di 250 euro, quindi con 250 euro si diventa soci della banca. Bisogna anche dire che le banche di credito cooperativo danno più valore alla persona che non al capitale che si investe nella sottoscrizione delle azioni, tant'è vero che durante l'assemblea dei soci, indipendentemente dal capitale sottoscritto, ogni socio ha diritto a un voto, quindi il socio che ha sottoscritto 250 euro ha lo stesso potere, chiamiamolo così, in assemblea del socio che ha sottoscritto 250 mila euro, per fare un esempio abbastanza eclatante. E questo cosa significa? Significa che la nostra banca dà molto più valore alla persona che al capitale investito e credo che questo sia un bel messaggio da tenere presente.